Questo è il mio primo incontro qui a Bari e sono già svantaggiato ho un raffreddore terribile che sta iniziando a venire su e anche una dentiera nuova che mi impedisce di pronunciare bene le S quindi vediamo che succede quelli di voi che sono già venuti a degli incontri con me sapranno che non mi piace affatto alcun tipo di rigidità spesso nei cosiddetti incontri spirituali c'è qualcuno che si siede davanti agli altri che è l'esperto e purtroppo ce ne sono parecchi di questi personaggi in giro è parte del gioco del divino e praticamente questi parlano e a nessuno viene permesso di contraddirli questa cosa non funziona affatto perché la condivisione di questa realizzazione affinché possa avere dei frutti può avvenire soltanto laddove c'è un'uguaglianza dove c'è un senso di amicizia se guardiamo la nostra storia spirituale abbiamo tutti questi uomini e donne che sono a un livello più alto che parlano a noi poverini che siamo al di sotto e dobbiamo accettare che loro siano superiori perché comunque noi non sappiamo affatto ciò di cui loro stanno parlando perché se lo sapessimo non saremmo lì ma io non ho mai visto mai un risveglio che avvenisse in una situazione simile ho visto il risveglio avvenire sia nella mia esperienza diretta che con altre persone che condividono lo stesso messaggio ma soltanto quando quel senso di superiorità o inferiorità non è presente la parola illuminazione viene molto fraintesa e quindi di conseguenza viene usata anche a sproposito e con questo arrivano anche tutte le storie riguardo come una persona ordinaria come ognuno di noi non possa essere illuminato ma c'è qualcosa di incredibilmente sbagliato in questo concetto prima di tutto tu non sai cosa sia l'illuminazione fin quando l'illuminazione avviene e quando avviene non hai bisogno che nessuno te la confermi si conferma da sé il che significa che tu stesso vedi le cose in modo tale che non c'è alcun dubbio a riguardo non c'è dubbio riguardo al fatto che tu sia la sorgente di ogni cosa che appare questo è già vero ciò che fa esperienza di questa stanza attraverso i sensi di tutte le forme presenti in questo momento è quell'uno che la sta creando che sta creando questa stanza in questo istante è così semplice ciò che fa esperienza di questa stanza in questo istante è la sorgente stessa di questa stanza ed è sempre stato così è sempre stato così in ogni istante della tua vita l'unica cosa che non avveniva era che la tua attenzione in effetti non stava andando nella direzione giusta nel luogo giusto a causa del condizionamento che per la maggior parte di noi inizia intorno all'età dei tre anni veniamo portati a credere che siamo qualcosa che in realtà non siamo quando avviene il risveglio è molto chiaro che tu non sei confinato nella taglia di una forma umana non sei incastrato qui per la durata di una vita c'è un cambio di prospettiva nella tua percezione da ciò che eri stato portato a credere di essere al vedere effettivamente non al credere ma al vedere direttamente ciò che sei in realtà quando questo avviene ciò che diviene immediatamente ovvio e chiaro e assolutamente familiare è che tu sei sempre stato la sorgente è già vero è già così adesso ma ci sono stati passati così tanti condizionamenti riguardo all'idea di chi siamo che non riusciamo a vedere la verità di chi siamo che però è presente 24 ore al giorno non puoi ottenere ciò che già sei l'illuminazione non è altro che la realizzazione di ciò che sei non ciò che pensi di essere non sei un essere umano in realtà non lo sei non sei un uomo non sei una donna non sei nulla di quell'oggettività sottile che chiamiamo mente non sei i pensieri non sei le tue sensazioni una volta che elimini questo e dici non sono questo non sono questo non sono questo ciò che ti rimane è quest'unica cosa che è molto semplice è così semplice che tu non la puoi fare non la puoi ottenere e non te ne puoi neanche liberare è l'unica cosa che rimane se prendi un secchio dell'immondizia e guardi attraverso tutti i pezzi sono questa scatola di caramelle sono questo fazzoletto alla fine ciò che ti rimane è un secchio vuoto e allora ti arriva che ciò che era sempre presente al di là di tutta questa oggettività era questo vuoto e questo vuoto stesso ignorava se stesso cosa che non era avvenuta per i primi tre anni della nostra vita questo vuoto stesso siccome si cercava in quanto oggetto in quanto qualcosa ignorava se stesso ognuno di noi in questa stanza adesso è consapevole non parlo di coscienza ma di consapevolezza non parlo di coscienza Grazie a tutti